Promuovere le novità in agricoltura sostenendo gli imprenditori del domani. Il settore primario è stato tra i primi, se non il primo, a capire l'importanza della sostenibilità. Una scelta che sta iniziando a portare i suoi frutti. Anche per questo Fondazione CR Firenze e Accademia dei Georgofili hanno deciso di insinire tre giovani laureati del titolo di ambasciatori delle innovazioni in agricoltura attraverso un bando che prevede l'assegnazione di altrettante borse di studio. Portarli su delle loro proposte nei confronti della città è una cosa importante e anche quello di farli partecipare a un settore come l'agricoltura che è quindi un settore primario ma un settore quasi dimenticato nei confronti dei giovani è sicuramente una cosa molto importante. 120.000 euro le risorse messe a disposizione dalla Fondazione. Le borse di studio saranno invece assegnate dall'Accademia. la più antica istituzione al mondo nello studio dell'agricoltura. Oggi chi intraprende in agricoltura ha bisogno di competenze specifiche molto importanti. Se si parla di droni, se si parla di satelliti, se si parla di tecnologie avanzate non si possono mettere in pratica così senza averne le basi. Questo è il punto.